Musica Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Pinia Società, la trasmissione di Pinia News. Quest'oggi è un giorno particolarmente importante per una serie di motivazioni. La prima è che siamo ospitati in una villa, Villa Dora, che in passato ospitava Carlo Alberto dalla Chiesa e sua moglie. Insomma, è una villa molto importante per tanti punti di vista. Invece, da tanti anni a questa parte, questa villa affianca nel loro percorso di uscita dalla tossicodipendenza tanti giovani della provincia di Avellino e non solo. Oggi ospitiamo due operatori. Alla mia sinistra c'è Davide Ardolino, alla mia destra c'è Stefani Malerba, due operatori appunto di casa sulla roccia qui a Villa Dora. Invece, ospitiamo anche poi due ospiti. Scusate il gioco di parole. Alla mia destra c'è Simone Pellegrino, alla mia sinistra c'è Nicoletta Giannini. Allora, io inizierei con Simone. Simone, per tanti motivi, è l'esempio plastico che, grazie a Dio, si può uscire dal mondo della tossicodipendenza. Sai l'esempio plastico che il lavoro che viene fatto qui a Prata e a casa sulla roccia in generale è un lavoro che serve, è un lavoro che è necessario appunto per uscire da questo percorso. Tu, Simone, sei stato qui 18 mesi, dopo 18 mesi hai riconquistato la tua libertà, ma anche la tua autonomia, la tua indipendenza. Infatti, lavori, insomma, hai ripreso in mano la tua vita. Allora, sì, come dicevi, è possibile recuperare la propria vita, la propria autonomia, la propria indipendenza, però diciamo che non è così facile come sembra, nel senso che il percorso è lungo, il percorso è difficile per svariati motivi. Nel senso che io sono entrato qui in comunità a casa sulla roccia perché oramai avevo raggiunto un apice della mia dipendenza che mi aveva portato a distruggermi, a non stare più bene con me stesso, a non badare più agli affetti, alla cura di me, a tutto ciò che mi circondava. Diciamo che entrando qua in comunità a casa sulla roccia, ho piano piano, tramite il percorso che ho incominciato in accoglienza, a prendermi di nuovo cura di me stesso, partendo dalle cose più semplici, più elementari, che era, per esempio, farmi il letto, oppure prendermi cura dell'ambiente dove vivevo, degli spazi comuni. E piano piano, così andando, ho scalato anche la terapia che prendevo del metadone, che ovviamente mi ha accompagnato per evitare quelli che erano ovviamente i sintomi dell'astinenza che mi portavo dalla strada. Una volta finito questo, come dicevamo, sono passato in comunità. Sono passato in comunità dove comunque sono passato a un livello successivo. Non sono andato a guardare solo le cose base, le cose più semplici, come i comportamenti, ma ho incominciato a guardarmi un po' dentro. Perché? Perché dico questo? Perché mi hanno insegnato in comunità che la dipendenza non è un punto di partenza, ma è un punto d'arrivo. Cioè, con questo che cosa voglio dire? Che di fondo c'è un disagio. C'è un disagio che nasce da qualcosa che ti è successo in passato, da qualcosa che non riesci a risolvere con te stesso. E non trovando una soluzione a questo problema che ti si è creato nella vita, che ti si è posto davanti durante la tua vita, io in quel momento ho scelto di buttarmi nella dipendenza. Che è stata la scelta più sbagliata che potessi fare nella mia vita perché mi ha distrutto. Io in quel momento ho scelto di distruggermi. Però poi, pian piano, con il passare del tempo, ho capito quali erano questi problemi, ho cercato, ho scavato dentro di me, ho capito quali erano questi problemi e quindi automaticamente sono riusciti ad affrontarli come sesso in comunità, facendo dei gruppi terapeutici, cercando il parlare con gli altri, che qui lo chiamiamo la condivisione, la condivisione di qualcosa che ti appartiene con gli altri, senza il giudizio, senza la paura che chi è di fronte a te possa giudicarti. Poi dopo continuiamo parlando del tuo percorso attuale. Invece, Nicoletta, tu sei qui da sette mesi. Una domanda forse la più banale, te l'avranno fatta sempre, però insomma te la vogliamo fare anche noi. Tu innanzitutto per quanto tempo sei stata vittima della dipendenza? Cosa ti ha spinto, cosa ti ha portato qui? Io ho fatto uso di sostanze per molti anni, fin dall'età di 16 anni mi sono comunque approcciata a questo mondo totalmente sbagliato. Sicuramente, come diceva Simone, io arrivo a scegliere di utilizzare la sostanza per far fronte sicuramente ad un disagio avuto sicuramente in età adolescenziale che poi man mano, andando avanti con il tempo, comunque si è accresciuto. Sicuramente arrivare all'utilizzo di sostanze è stato il modo più semplice per far fronte a questo disagio, per non sentire questo disagio, quindi per andare avanti in un certo senso. Sicuramente scelta sbagliata, scelta di comodo, scelta che mi ha messo in una condizione di mancanza di rispetto nei miei confronti, che mi ha fatto comunque vivere in maniera sbagliata, creando relazioni sbagliate, vivendo una condizione di solitudine, creando una famiglia alla quale non ho dato importanza, sia alla famiglia mia personale di origine che alla famiglia che ho creato, non dando importanza al mio figlio, al padre di mio figlio, e in primis comunque a me stessa, quindi è stato per questo sicuramente una scelta sbagliata. Davide e Ardolino sono 20 anni che opera qui, quindi la testimonianza che insomma con l'andare avanti con il tempo si acquisiscono sempre nozioni maggiori e si può dare una mano sempre in maniera maggiore alle persone che sono qui. Davide, ci diamo del tuo volentieri, la prima cosa che tu pensi quando un ragazzo nuovo varca il cancello d'Ingria, la prima cosa che pensi è la prima cosa che bisogna poi fare, insomma qual è l'approccio base che bisogna tenere? La prima cosa che io penso e la prima cosa che pensano tutte le persone che lavorano con me è che sia di fronte una persona che arriva da un percorso di profonda solitudine, profonda, tremenda, che porta sul corpo, sulla faccia, negli occhi, non solo le ferite, i segni delle ferite, ma la solitudine, l'abbandono, il senso di niente, di vuoto. Quello che accade e che accade anche in tempo di pandemia è l'idea che le persone a un certo punto della loro vita si fermano e ci provano. Quello che fa la differenza in comunità, dopo tutti questi anni, non solo è un percorso di riabilitazione, di gruppo, di riflessione sul passato, sulla propria storia, sui propri errori, o anche su quelli degli altri, la capacità di rincontrarsi. E la cosa straordinaria di questo periodo è che le forme che assume una solidarietà sono indefinite. Parlavamo prima, prima della pre-pandemia, la prima cosa che si faceva in comunità era avere un contatto fisico, perché le sostanze, gli abbandoni, creano immediatamente dei distacchi, sia per chi, come dire, per chi c'è dentro, sia per chi le guarda dall'esterno, con sospetto, a volte anche giustamente. e quindi c'era questa cosa di abbracciarsi, tenersi la mano, ricominciare a sentirsi vivi, partecipi, anche toccarsi era qualcosa di importante. Questa cosa non è accaduta più in tempi di pandemia, ma anche una videochiamata in alcuni momenti ha assunto una forma che è andata oltre la videochiamata stessa. La capacità di volersi bene, di guardarsi negli occhi, di starsi accanto, certe volte va oltre le logiche di cui noi disponiamo e che probabilmente conosciamo. in questi ultimi anni pandemia è qualcosa che ci fa paura perché non la conosciamo e non la controlliamo. Ha la stessa stregua delle dipendenze. Una persona dipendente è una persona che non controlla se stessa e quindi chi è fuori ne ha paura. Ma come la pandemia si risolverà? Perché è un fatto umano, allo stesso modo si risolve ogni dipendenza. Se chi però c'è dentro lo decide insieme quello che ha sempre funzionato in comunità è la capacità di volersi bene, di riprendere a dirsi ti voglio bene e anche a comunicarselo toccandosi. Stefani, tu invece sei qui da 13 anni e anche il tuo è un percorso lungo ed importante come operatrice. Tu sei un assistente sociale. Invece i ragazzi appena vengono qui cosa chiedono? di cosa hanno bisogno in particolare? Lui ci diceva, il dottor Ardolino ci diceva che è la prima cosa alla quale pensa lui. Invece i ragazzi appena vi vedono, appena vi incontrano, i loro occhi cosa vi chiedono? Tutti i ragazzi appena entrano. Quello che a mio avviso, avviso di noi operatori, quello che cercano o meglio quello che noi leggiamo che loro cercano è una possibilità, un'opportunità, una speranza, qualcuno che li guardi dicendo ce la puoi fare. Ce la puoi fare e che gli dia quella fiducia, quella speranza, la capacità di credere che si possa superare. quando noi diventiamo lo specchio dei ragazzi e gli offriamo questa possibilità poi loro riescono a trovare nuove risorse per cambiare la loro vita perché magari fino ad allora si sono specchiati in altre persone dove l'unica cosa che vedevano era di valere zero, nulla, di non riuscire magari a raggiungere delle cose. Invece arrivare in comunità, arrivare in accoglienza, fare un colloquio, inizia ad accendersi quella luce, quella speranza in loro, nei familiari, di dire cavolo ce la posso fare. È molto importante appunto oggi Simone ha terminato il percorso già da un po', però Simone è qua oggi, è qua per dire a Nicoletta o a qualcun'altro, a chiunque sta in comunità e dire ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu. Questa è la cosa importante che ognuno cerca poi sostanzialmente. Anche poi il supporto nell'aiuto medico, medico, farmacologico, nelle relazioni, l'aiuto, in qualsiasi campo della propria vita. Simone, prima di approdare qui a Casa sulla Roccia, hai mai pensato di non farcela più? Insomma, hai mai pensato che la tua vita potesse finire da un momento all'altro o comunque potesse avere una piega verso la quale tu non potevi più fare niente? Allora, io diciamo che è un po' complesso rispondere a questa domanda perché in realtà per come l'ho vissuta io e per come la penso io la dipendenza diciamo che ho provato sulla mia pelle una persona che va a fare uso di sostanze vuol dire che già pensa di non farcela è già reso è già già pensa di non poter affrontare la vita e questo è il problema uno dei problemi di una persona che ha dipendenze è il pensare di non potercela mai fare la continua svalutazione di se stesso delle proprie capacità che avviene in continuazione anzi più si va avanti più si fa uso di sostanze più questa condizione peggiora perciò facevo il riferimento prima dicevo quando sono arrivato io in accoglienza perché era arrivato a un punto dove per me contava solo l'uso delle sostanze e nient'altro perché era l'unico l'unico modo e l'unica cosa che mi appagava perché appunto credevo di non valere niente di non potercela fare Nicoletta qual è stata la cosa diciamo più odiosa che hai fatto a causa di queste maledette sostanze la cosa che più ti ricorda e che più ti fa inordidire se ci pensi ancora oggi sicuramente tantissime cose adesso da mamma quindi nell'età più adulta sicuramente non prendermi cura di mio figlio non prendermi cura accompagnare la scuola con disattenzione accompagnare la scuola in ritardo non essere spesso presente nei compiti delle volte anche rivolgermi in maniera sbagliata a lui perché comunque non si è lucidi questa è una cosa comunque che odio tantissimo è una cosa che non va bene Dottor Ardolino Davide diciamo questa struttura è un segnale di grande speranza che diamo a tutti questa trasmissione vuole essere un grande segnale di speranza riusciamo anche a dare un po' un po' di numeri cioè nel senso io credo e spero che la maggior parte dei ragazzi che vengono qui alla fine ce la fanno e poi la cosa che mi interessa Dottore è sapere se poi come mi sembra come sembra di aver capito si instauri poi un contatto anche successivamente con questi ragazzi allora intanto chi completa il programma insomma i numeri della riuscita sono abbastanza elevati ci sono anche dei numeri che implicano il fatto di di poter avere delle piccole ricadute ma quando i ragazzi hanno delle ricadute hanno finito il programma può essere interno a un percorso personale come tutti del resto hanno immediatamente la immediatamente si rivolgono di nuovo a noi e chiaramente c'è un percorso chi è che è stato qui chi è venuto in comunità chi è venuto a Villadora ha poi negli anni per le notizie che ho io anche personali struttura un legame affettivo qui si cambia la vita qui si passa un anno della propria esistenza a riprendere i piccoli pezzi anche con grande fatica grande sudore vivere in comunità e essere impegnati per buona parte della giornata più o meno dalle sette e mezza del mattino fino alle alle dieci di sera insomma con piccole responsabilità che poi crescono via via che va avanti il programma e c'è sempre l'idea di restituire ridare riconsegnare perché la dipendenza è un percorso che parte da condizioni egoistiche io penso a me ho bisogno di questo come così il riscatto è solidarietà è vicinanza è la capacità di darsi è la capacità di smettere di dire io io devo avere e quindi cambia completamente lo scenario io devo restituire e quindi quello che quello che negli anni si è strutturato non è solo e non è tanto un percorso di riuscita che pure c'è ed è secondo me è importante ma è è quello che si è creato in questo posto è quello che come dire le mura le pietre i cani comunicano che hanno preso e che restituiscono io io devo moltissimo a questo posto tanto come persona e ho imparato molte cose da chi è venuto qua Stefani ci racconti la giornata tipo ecco la giornata tipo dei ragazzi che stanno soprattutto qui a Villa Dora cosa cosa fanno in particolare sappiamo insomma che davvero si fanno tante cose tanti percorsi tante attività sì la giornata qua a Villa Dora è strutturata con dei tempi ben precisi partendo dall'idea che una strutturazione della giornata avere delle regole avere degli impegni fissi regolari e quotidiani questo aiuti anche in termini educativi durante il percorso la sveglia è per alcuni alle 6 per alcuni alle 7 dipende dalle attività quindi si inizia di primo mattino questo da lunedì al venerdì e poi ognuno ha dei compiti precisi che deve svolgere a seconda del proprio ruolo quindi c'è chi si occupa della colazione chi si occupa di preparare e riordinare le stanze chi poi si preoccupa di dar da mangiare agli animali alle galline chi si occupa delle serre chi si occupa della lavanderia della gestione degli indumenti da lavare di casa ognuno insomma il proprio ruolo e la propria competenza e man mano che il percorso va avanti le responsabilità aumentano e crescono perché vengono affidate a ognuno di loro sempre maggiori capacità di gestire il proprio lavoro di gestire il proprio tempo anche il tempo libero diventa importante la capacità di gestire gli spazi vuoti i tempi di gioco i momenti in cui stare insieme quindi non è soltanto responsabilità rispetto al lavoro ma anche saper gestire la propria giornata ritagliandosi degli spazi di condivisione per poter parlare con qualcuno per potersi confidare o anche semplicemente per fare una chiacchia o una risata distensiva dopo una giornata magari difficile e complessa le vostre fragole sono buonissime insomma ho sentito dire che producete delle fragole è vero questa cosa l'insalata le verdure insomma nelle serre cerchiamo di produrre verdure di stagione in modo biologico prima il dottore Ardolino Simone parlava della pandemia accennava la pandemia in un anno è cambiato tutto insomma la nostra vita è stata stravolta anche la vostra è stata stravolta la tua in particolare perché tu insomma eri nella fase finale poi che cosa è successo? Allora in poche parole riagganciandomi a quello che dicevo prima era proprio in questo periodo qua dove tutto sembrava apparentemente normale però in realtà all'improvviso ci viene data comunicazione ovviamente questo nel febbraio del 2020 quando era ancora in percorso ci viene data comunicazione dalla responsabile terapeutica che non potevamo festeggiare carnevale appunto insieme ai nostri cari perché c'era un'emergenza in corso noi qua non avendo telefoni non avendo televisione ma solo il giornale che veniva comprato tutti i giorni però leggendo la notizia sul giornale non rendeva l'idea la gravità della situazione però poi quando c'è stata questa notizia abbiamo capito che c'era qualcosa di grave e così è incominciato questo calvario tra parentesi perché io ero pronto per poter fare queste verifiche ero pronto per potermi sperimentare un po' fuori per cercare di ricostruire la mia vita e poi ho dovuto diciamo cercare di reinventarmi per fare questo reinserimento per cercare di capire come fare una volta uscito fuori ci sono stati molti momenti bui durante questo periodo dove ho avuto paura per un attimo di non farcela però grazie all'aiuto degli operatori grazie alla forza che mi hanno dato i ragazzi che stavano in percorso con me sono riuscito a riprendermi e a finire questo percorso e una volta finito il percorso mi sono sbracciato le maniche grazie a quello che avevo imparato mi sono cercato un lavoro e l'ho trovato ho ripreso i contatti con la mia famiglia e ci sono riuscito adesso siamo bene insomma alla fine è andato tutto bene però è stato solo grazie alle relazioni che si sono create qua perché quello è il punto fondamentale poi del percorso il creare delle relazioni sane e forti che ti permettano poi una volta uscito di restare in piedi anche quando barcogli anche quando credi di non farcela e infatti da qua viene appunto l'idea di mantenere i contatti con la comunità e ritornare qua a fare il volontario perché poi si aggiunge anche un'altra idea vicino a tutta questa situazione il fatto di poter di aver ricevuto delle cose aver ricevuto del bene delle attenzioni quando io ero in percorso e facendo il volontario questo lavoro di volontariato l'idea di poterli restituire e di poter dare a mia volta agli altri quello che mi è stato dato a me ultimissima cosa perché purtroppo il tempo va avanti e tiranno come direbbe qualcuno Nicoletta se fai un passo indietro da sette mesi fa ritorneresti faresti tutto quello che hai fatto verresti qui e diresti appunto basta voglio ricominciare assolutamente sì sono ogni giorno che vado avanti sono sempre più convinta che questo è il posto che può salvarmi la vita io ho scelto di salvarmi la vita e sono assolutamente contenta di essere arrivata qui quindi sì rifarei sicuramente questa scelta con queste parole bellissime di Nicoletta io ringrazio tutto lo staff di Casa sulla Roccia e di Villadora che ci ha accolti in maniera straordinaria ringrazio gli operatori che sono persone eccezionali ai quali va dato ampio merito per quello che fanno quindi dottore Davide Ardolino grazie grazie a Stefani Malerba grazie Simone in bocca al lupo per tutto Nicoletta grazie a te anche a te un in bocca al lupo grandissimo noi speriamo davvero che quanto è stato fatto oggi qui con il PINIA News valga davvero a chi soprattutto ci ha seguito grazie e alla prossima grazie a te grazie a te